La medicina di genere è quella branca della medicina che si occupa di studiare l'influenza di sesso biologico e genere sullo stato di salute di ogni individuo. Esistono infatti molte malattie che hanno diversa frequenza, manifestazioni cliniche e promiosi differenti, non solo per una diversa caratterizzazione biologica e funzione riproduttiva, cioè il sesso biologico dell'individuo, ma anche per un insieme di fattori socioculturali e relazionali che definiscono il termine di genere. Ad esempio le donne hanno una differente risposta e reazioni avverse differenti ai farmaci che molto spesso però vengono studiati in clinical trial che reclutano soprattutto soggetti di sesso maschile. Sulla base di questi presupposti il Ministero della Salute nel 2019 ha diffuso un piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere e più recentemente ha suggerito che sesso biologico e genere vengano considerati nella stesura di linee guida per la gestione personalizzata dell'individuo. Al Policlinico da tempo ci occupiamo di promuovere il concetto di medicina di genere e recentemente abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro per aiutare la ricerca su questo argomento e per creare dei percorsi dedicati. Grazie. 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 Grazie.